Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like, inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. In un mare mosso di emozioni e incertezze, il Bayern Monaco sta attraversando un periodo turbolento, trovandosi distaccato di 10 punti dalla vetta della classifica, attualmente dominata dal Bayern Leverkusen. Al centro di questa tempesta calcistica c'è Kim Min Jae, il difensore sudcoreano, giunto al club tedesco nell'estate scorsa per la cifra cospicua di 58 milioni di euro, ma ora sorprendentemente relegato in panchina. Con appena 15 minuti di gioco accumulati nelle ultime partite, l'ex promessa del Napoli sembra essere diventata l'ombra del giocatore chiave che era sotto la guida di Thomas Tuchel. Le parole recenti dell'allenatore bavarese non fanno che sottolineare questa situazione. Kim merita di giocare, è un talento eccezionale, ma al momento mi sto affidando alla sua solidità di The League e Die, che stanno portando a casa i risultati. Non vedo ragioni per cambiare la formazione in questo momento cruciale. Tuttavia, con l'imminente addio di Tuchel alla fine della stagione, si prospetta una possibilità per Kim di riconquistare il suo posto da titolare nella prossima stagione. Ma il futuro di Kim potrebbe riservare sorprese già nel prossimo mercato estivo. Si sussurra che il difensore potrebbe essere offerto a grandi club europei, con nomi illustri del calcio italiano come Juventus e Inter in prima linea. La presenza di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ora in forza alla Juventus, e la ricerca dell'Inter per un nuovo difensore centrale potrebbero essere fattori cruciali in questa intricata partita di scacchi sul mercato. Ci sono ostacoli da superare, tra cui l'ingente stipendio di Kim e il contratto in scadenza col Bayern nel 2028. Tuttavia, un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere la chiave per un nuovo capitolo nella carriera del difensore nato nel 1996. Tifosi e appassionati, state con gli occhi ben aperti. Il mercato estivo si prospetta carico di colpi di scena e sorprese.